La prima seduta del Consiglio regionale dopo la crisi di governo a due mesi esatti ormai dalle elezioni del 25 settembre è molto influenzata chiaramente da quello che si fa e si dice a Roma. Le riunioni si infittiscono in questi giorni, in queste ore sale la pressione anche sui Consigliati regionali chiamati ad un impegno in più per le elezioni. Ma quanti saranno i candidati? E come porrebbe cambiare l'Aula dopo il grande turnover del 2018? Intanto nell'ultima seduta prima della pausa di agosto si votano alcuni atti di bilancio. Sono l'assestamento del bilancio di previsione 2022-2024, il rendiconto del 2021 è una variazione al bilancio, però quello del Consiglio regionale, per dare un primo aiuto alle zone della Versilia più colpite dall'incendio. Via libera anche la nuova legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per ordinare e semplificare. Anche in questa trasmissione vi guidiamo in un viaggio immaginario, ma che porreste davvero fare in tanti borghi, paesi e città della Toscana, che dopo la pandemia si rianimano in questa calda estate. Il nuovo media center del Consiglio regionale adesso è dedicato a Davide Sassoli, giornalista della RAI e al momento della scomparsa presidente del Parlamento europeo. L'intitolazione è stata l'occasione anche per riflettere i suoi risultati della conferenza sull'Unione dell'Europa. L'emergenza incendi non finisce. La Toscana è stata molto colpita in questi giorni, in queste settimane. Prima il grave rogo di Massarosa, 860 ettari andati in fumo prevalentemente di bosco, poi Cinigiano e tanti altri roghi scoppiati in molte località della nostra regione. Il presidente Gianni torna da Roma e annuncia che ci sarà la richiesta dello stato di calamità. Troppo gravi danni servono risorse per bonificare le aree e ripristinare le superfici distrutte dal fuoco. Ho dato mandato agli uffici di studiare come si può prefigurare uno stato di calamità regionale che possa richiedere fondi a livello nazionale e possa contemporaneamente aprire attraverso Artea delle graduatorie per coloro che hanno avuto danni. Insomma, la Toscana ha subito pesantemente questa ondata di calore anche perché siamo una delle regioni che ha avuto più caldo e conseguentemente si è riversato il tutto sul fatto che la Toscana è la regione più boschiva d'Italia. La superficie di boschi e macchia mediterranea in Toscana è la più ampia di qualsiasi altra delle 20 regioni italiane. In attesa dei soldi da Roma, il Consiglio regionale agisce in piccolo ma in maniera efficace. Così eroga il primo sostegno di 50.000 euro ai territori devastati dall'incendio di Massarosa. Sono soldi recuperati dagli ex vitalizi e dai fondi per le emergenze ambientali e sociali. L'altra emergenza infinita è quella del Covid che ha messo in difficoltà un'altra volta il sistema sanitario. Ne risente l'organizzazione ma ne risentono anche i conti, tanto che si sono resi necessari degli incontri in questi giorni per chiarire l'entità del debito e studiare misure alternative. Giovedì i rappresentanti di volontariato sociale e sanitario e medici sono stati ricevuti dai membri della Commissione Sanità. Le opposizioni su questo tema incalzano, la maggioranza risponde. Due criticità in queste ore più importanti delle altre. Una è quella dell'associazione volontariato sociale. È evidente che hanno fatto un servizio straordinario ed eccezionale in un momento in cui c'era una crisi energetica, dei costi maggiori e quindi se abbiamo interesse a continuare a mantenere quel tipo di rapporto si deve assolutamente investire dei soldi. Servono 10 milioni di euro, sono all'incirca 10 milioni di euro che la regione toscana dà Toscana Aeroporti. Se quei 10 milioni gli diamo anche al volontariato sociale possiamo probabilmente salvare alcuni servizi, alcune funzioni che altrimenti nessuno farebbe, che altrimenti nessuno farà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, perché ci sono già alcune associazioni che dicono che dovranno sospendere il servizio di 118 notturno a partire dal primo d'agosto, che è domani mattina. Quindi serve 10 milioni di euro, la regione toscana deve trovare, troviamoli come l'abbiamo trovati per Toscana Aeroporti. L'altra criticità sono i medici, l'intersindacale, ovvero tutte le sigle sindacali che rappresentano i medici toscani hanno lanciato un grido d'allarme che poi ogni cittadino che ahimè è costretto ad andare a un pronto soccorso per una questione urgente e grave o per una banalissima questione si rende conto di quello che sta succedendo. Sull'associazione volontariato c'è un tavolo, un assessorato, che appunto analizza e analizzerà tutti quelli che sono gli aumenti di costi e cercheremo con l'attività della Giunta di dare un sostegno alle associazioni anche rividendo in parte l'organizzazione del servizio di trasporto. Per quanto riguarda il personale il tema è quello che dicevamo, ascolteremo le ragioni, la Giunta ci ha portato alcune considerazioni di carattere tecnico, io penso che il tema di pagare di più i medici, certamente non pagarli meno, sia un dato politico che va portato a casa. Poi i problemi burocratici li vedremo insieme alla Giunta, ma penso che su questo ci sia spazio per fare una battaglia politica. Il tema si inserisce in un contesto più ampio, ancora legato comunque a questioni economiche e finanziarie. Uno sguardo attento ai conti della Regione Toscana, in particolare a quello che si definisce il rendiconto del 2021. Lo danno i consiglieri regionali in un dibattito piuttosto lungo che ha aperto i lavori di quest'ultima settimana, di quest'ultima seduta prima della pausa di agosto, lo ha dato quest'occhio anche la Corte dei Conti pochi giorni fa. Cosa criticano le opposizioni? Cominciamo la nostra carrellata di opinioni. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Malia, ma in realtà non è così neppure per la Regione Toscana. Anzi, abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo, così come dobbiamo affermare forte e chiaro il ruolo centrale del Consiglio regionale ed è per questo che è necessaria un'attività adeguata di staff che siano in grado di supportare specialmente l'azione dei consiglieri di opposizione in quella funzione di controllo che praticamente, come ho detto in aula, è la sola che sostanzialmente rimane. Il rendiconto prima di arrivare in aula è passato al vaglio della Commissione di controllo e viene approvato con la maggioranza dei voti dei consiglieri. Lo illustra il Vice Presidente della Commissione. La replica è del Presidente, che è espressione naturalmente dell'opposizione in Consiglio. Il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi, rispetto ad alcuni valori, sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato di amministrazione chiude con 346 milioni di positivo. c'è una tendenza anche al recupero delle vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della Regione in terreno di sicurezza. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto. In Italia ha oltre un miliardo e mezzo di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la Regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario e in realtà trattiene i soldi, costringendo le asle o anticipazioni di tesoreria o addirittura a contrarre nuovi mutui, il che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti, sia dal punto di vista della gestione degli investimenti, perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti, ma in realtà non trovano mai attuazione, e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, utilizzando dei fondi non corretti, ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. Entrate ed uscite ammontano ad oltre 17 miliardi e mezzo rispetto alle previsioni iniziali, ci sono state variazioni successive per oltre 2 miliardi. Come abbiamo sentito, i rilievi della Corte dei Conti hanno riguardato soprattutto il personale delle strutture politiche di Giunta e Consiglio e poi i conti della sanità e quelli delle partecipate, questione dibattutissima da anni quest'ultima. La sanità pone delle criticità in relazione appunto all'esplosione dovuta alle misure per contrastare il Covid e la pandemia. I conti della sanità nel 2021 sono stati chiusi in pareggio e anche tenendo conto del fatto che il Governo ha dato solo una parte delle spese che la Regione ha dovuto affrontare. Le partecipate hanno una valenza anche strategica per la Regione Toscana perché alcune aziende, alcune società, alcuni soggetti svolgono anche una funzione fondamentale di agenzia per la Regione Toscana stessa. Una delle situazioni che spesso la Corte dei Conti richiama che è quella relativa all'affidi Toscana vede la Regione aver avviato un processo per l'uscita, la fuoriuscita della Regione da quella società. Il bonus principale è sulla sanità perché ovviamente i conti sono sballati soprattutto negli ultimi due anni per colpa della pandemia ma c'è un rapporto non chiaro, c'è un disallineamento fra il bilancio della Regione e i bilanci delle singole asle che ogni volta rende difficile capire a cosa servono tanti capitoli di spese e dove vanno a finire quei soldi. Registriamo altre valutazioni di segno opposto critico è il Movimento 5 Stelle per bocca della Capogruppo. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della Regione Toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario. Comparto sanitario che ha già sofferto duramente due anni insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti e quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, disordinata e delle volte poco concreta e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. Esprime un giudizio positivo invece il capogruppo di Italia Viva seconda forza di maggioranza. Ma è importante certificare il rendiconto di gestione è l'atto più importante di un Consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una Regione che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni di raggiungere i propri obiettivi quindi un atto fondamentale e credo che insomma la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto una legge che consente non duplice occhi fondamentalmente tecnico e politico e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra Regione ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione quella di settembre dove servirà a assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Da questo rendiconto discende il nuovo assestamento di bilancio per il triennio 2022-2024 anche questo votato a maggioranza. Via Libera poi al bilancio 2021 di IRPET il nostro istituto di ricerche socio-economiche l'utile supera i 500.000 euro con un incremento del 12% rispetto all'utile dell'anno precedente ci sono state minori spese di funzionamento e questo spiega la differenza. Questo ha consentito quindi un utile di 500.000 euro che come previsto dalla legge istitutiva dell'IRPET viene trattenuto per 100.000 euro quindi il 20% al fondo di riserva per la copertura di perdite future e l'altro 80% quindi 400.000 euro viene restituita alla regione toscana che come sappiamo è l'ente che contribuisce al finanziamento non soltanto delle attività istituzionali ma anche delle attività comuni di IRPET. Il bilancio passa a maggioranza invece un ordine del giorno dell'opposizione viene approvato da tutti lo spiega il suo promotore il capogruppo di Fratelli d'Italia. Il documento prevede che dei quasi 3 milioni di liquidità che abbiamo appreso essere nelle disponibilità di IRPET IRPET ha nei propri conti correnti 3 milioni di liquidità questi 3 milioni sono investiti nei vari conti correnti e fruttano a IRPET 27 euro all'anno di interessi crediamo che non sia il caso di tenere immobilizzati 3 milioni di euro per guadagnare 27 euro all'anno di interessi quindi abbiamo chiesto che 2 milioni di questi 3 in pratica lasciando nei conti di IRPET i soldi che servono per la gestione ordinaria dell'azienda per pagare i dipendenti per pagare i fornitori ma 2 milioni vengono restituiti alla regione toscana e destinati a progetti in ambito sanitario sociale e culturale. Non si discute di Keu stavolta ma sul Keu si litiga ancora l'assessora manda una comunicazione sui siti inquinati dalla sostanza che deriva dagli scarti conciari finita al centro dell'inchiesta sulla zona del cuoio ma le opposizioni lamentano il ritardo dell'invio e soprattutto contestano all'assessora l'assenza nel dibattito in aula della settimana scorsa dopo un'ampia e aspra discussione in commissione viene approvata anche la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale una sorta di cacciavite per aggiustare incongruenze possibili contraddizioni in diverse leggi sono 15 quelle regionali che toccano vari ambiti tra cui le norme sulla bonifica dei rifiuti e dei siti inquinati sul servizio sanitario regionale il testo unico del personale la legge urbanistica il codice del commercio il dibattito è sul fatto che sia un provvedimento meramente tecnico o anche di contenuto ne parleremo meglio con tante interviste tra sette giorni quando esamineremo anche i provvedimenti per le aree interne la nuova disciplina sulle acque minerali di sorgente e termali l'aula vota anche perché l'isola d'Elba venga considerata non vocata ai cinghiali vuol dire che si porrà fare tutto l'anno la calcia selettiva un modello che adesso si vuole esportare in molte altre zone della Toscana infine i funghi anche le associazioni senza scopo di lucro sono autorizzate alla raccolta a pagamento e il parco di San Rossore con l'approvazione del bilancio 2020 in ritardo perché si riferisce alla precedente gestione torniamo al tema delle elezioni a quello delle candidature quanti saranno i consiglieri candidati nelle diverse liste impegnate nelle elezioni del 25 settembre l'altra volta l'ultima volta nel 2018 ci fu un vero e proprio turnover soprattutto nel centro-destra e adesso che accarrà ed è un bene o un male che i consiglieri regionali siano impegnati direttamente come candidati in una corsa elettorale così difficile come questa con le nostre immagini torniamo al 2018 quando in consiglio regionale ci fu un vero e proprio turnover del centro-destra furono eletti Claudio Borghi e Manuel Vescovi della Lega Stefano Mugnai che allora era di Forza Italia e Giovanni Donzelli che era il capogruppo di Fratelli d'Italia ma io penso che noi qui stiamo facendo un lavoro importante siamo stati eletti da due anni penso d'altro canto che i consiglieri regionali insieme ai sindaci sono quelli che hanno maggior radicamento territoriale per il sistema elettorale che abbiamo e quindi penso che ogni partito in questo momento stia valutando seriamente la possibilità anche di candidare sindaci o consiglieri regionali per dare un valore il collegio nominale come dicevo prima è un noi e voi e quindi in quel collegio nominale la necessità è prendere un voto in più e per prendere un voto in più devi mettere una persona che è radicato in quel collegio una persona che ha lavorato che conosce le persone che le conosce per nome e che sa dialogare noi abbiamo tanti colleghi e tanti colleghi molto preparati che possono svolgere questo incarico anche il centrodestra ha personale politico radicato la scelta spetterà al segretario nazionale del mio partito ai segretari nazionali degli altri partiti ma dalle regioni ci sono tutte le competenze per poter aiutare in questa campagna elettorale ci sono tante iniziative di cui parlare in questi giorni perché di queste si è parlato qui e Palazzo del Pegaso si conferma un crocevia un luogo ideale per dare una dimensione una visibilità davvero regionale a tante manifestazioni legate ai nostri territori noi abbiamo un'idea quella di valorizzare e dare più voce a quei territori che non sono Firenze non sono il centro della Toscana l'idea di una Toscana diffusa passa anche attraverso queste iniziative voi che vivete insieme a noi tutte queste giornate importanti questi momenti importanti vi rendete conto quanto sentiamo forte l'esigenza di valorizzare pezzi importanti dell'economia del nostro territorio che hanno bisogno del sostegno della vicinanza della cosa pubblica insomma oggi ogni volta questo luogo diventa un luogo per dare più voce a quei territori che hanno più bisogno della regione alcune di queste che già vi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali e di cui porrete sapere di più sul nostro sito a Fivizzano c'è la seconda edizione del simposio Lunens gli artisti internazionali in concorso animeranno il borgo realizzando le opere nei luoghi più suggestivi dalla piazza Medicea a Porta Sarzanese si svolge tutto nella prima settimana di agosto fino a domenica 7 torna nel comune di Castelnuovo Berardenga nel Chianti Senese il premio stelle dello spettacolo che andrà in scena il 5 agosto nella Roccaforte medievale di San Gusme con tante stelle della scena nazionale di teatro cinema, televisione e musica insieme a talenti emergenti il premio alla carriera di questa edizione la numero 3 andrà a Sandra Milo diva del cinema e musa di Fellini e poi c'è Portami con Te il progetto contro lo spreco alimentare per i turisti e i consumatori di Montepulciano l'iniziativa è nata da un accordo tra Comune Consorzio del Vino Nobile e gli esercenti e utilizza particolari doggy bag wine bag realizzati con materiale riciclato e riciclabile per i 200 ristoranti e denoteche della cittadina non si spreca niente si risparmia anche l'ambiente a margine dell'ultima seduta del mese di luglio è stato presentato poi il nuovo consiglio di amministrazione di Fondazione Sistema Toscana si è parlato di obiettivi e strategie con la volontà di valorizzare ancora di più questo ente appuntamento per le interviste alla prossima puntata di regionando quando parleremo anche di Europa e dei risultati in Toscana e in Italia della conferenza sul futuro dell'Europa intanto però il nuovo media center del consiglio regionale a disposizione di tutti i giornalisti di ogni media è stato intitolato a Davide Sassoli che è morto mentre era presidente del Parlamento Europeo e che era stato giornalista di punta del Tg1 dedicare questo spazio a Davide Sassoli vuol dire dedicare uno spazio ad un grande giornalista ad un grande uomo delle istituzioni ad un grande politico e dedicare il nuovo media center il luogo in cui noi vogliamo avvicinarci attraverso la comunicazione ai cittadini e cittadine della Toscana è secondo me un modo bello e importante per sottolineare anche i valori dell'Europa la necessità di essere vicino sempre alle persone più in difficoltà di dare un sostegno anche ai ragazzi più giovani io come voi sono un giornalista e quindi Davide ha rappresentato una personalità che ha saputo entrare nelle case degli italiani come si suol dire per portare elementi di conoscenza e di valutazione sui grandi fatti che accadevano nelle nostre comunità poi ha scelto la strada di mettersi al servizio delle istituzioni è arrivato al vertice delle istituzioni europee facendo il presidente del Parlamento ed è un uomo che è sempre stato un uomo del dialogo senza fare mai sconti rispetto alle proprie idee quindi è una persona che francamente ha fatto molto molto bene in tanti passaggi noi torniamo con la nostra ultima puntata prima della pausa estiva venerdì alle 21.15 sempre sul canale 15 in tutta la Toscana dal Mugello alla Marema vedremo anche le immagini della consegna del gonfalone d'argento ad Alice Mariani nuova etual della Scala di Milano e della targa ad Andrea Lanfri atleta paralimpico e alpinista all'eova e da cogera Grazie a tutti.